John Borno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. La Juventus vince per 0-1, quindi di misura sul campo dell'Atalanta e porta a casa un risultato che sarà secondo me importantissimo per le sorti delle due squadre per quanto riguarda la prossima finale di Coppa Italia. Poteva succedere di tutto, non è successo niente perché in pratica dopo due minuti la Juve va vicino al vantaggio, dopo tre minuti trova il vantaggio quindi tu dici, cazzo, segna Iguain al terzo minuto, adesso può magari finire in goleata con la Juventus che distrugge l'Atalanta, oppure l'Atalanta con un gesto di stizza può ribaltarla e creare una situazione eroica, oppure potremo assistere ad un match, batti e ribatti con un sacco di gol no, non è successo niente, uno 0-1, praticamente se avesse distruggere dopo tre minuti non sarebbe cambiato praticamente nulla la Juventus fa la Juventus, quindi gioca intelligentemente a differenza delle altre big e mette tutti i titolari, dal primo all'ultimo tutti i titolari e questo paga ovviamente anche l'Atalanta ha messo tutti i titolari, però i titolari della Juventus ragazzi secondo me non sono assolutamente paragonabili ovviamente a quelli dell'Atalanta Iguain fa un gol della Madonna come sempre perché Iguain, ora gli si può dire tutto gli si può dire che ultimamente è stato un po' discontinuo, un po' fuori forma però quando c'è la palla fra i piedi sinceramente è difficile emulare un campione del genere Buffon ragazzi mamma mia, non giocava da una vita, infatti mi fa stranissima stanza che Buffon gioca la Coppa d'Italia e scesi nel campionato, viene nel volta stomaco però a parte questo, non giocava da una vita, subito Gesù Cristo torna Buffon ragazzi, pare il rigore del Papu Gomez e anche qua purtroppo io ragazzi da tifoso estraneo alla vicenda quindi da tifoso romanista preferivo ovviamente l'Atalanta perché voglio vedere un po' di cambiamento poi al di là del tifo perché insomma il tifo romanista odia quello bergamasco così come odia quello juventino, c'è veramente poca differenza addirittura forse c'è più rivalità con l'Atalanta però mi piace vedere un po' di cambiamento all'interno del nostro campionato comunque all'interno del nostro paese perché la Coppa d'Italia non fa parte del campionato invece secondo me ragazzi quando sprechi un calcio di rigore che ti danno poi fra l'altro non capisco perché Allegri si è lamentato dicendo vergognoso il rigore il rigore era netto secondo me, mano poi quasi che me sbaglio io l'ho visto e l'ho rivisto ragazzi anche adesso ho cercato il cellulare, mi sembrava mano netta però vabbè a parte questo Papu Gomez lo batte, sbaglio il rigore gli è stato bravissimo Buffon, però lo sbaglio ovviamente non puoi pensare di ribaltare una parte dopo che hai sbagliato un calcio di rigore Bernardeschi, io ce l'ho al fantacalcio, rosico come un cane non gioca nemmeno con quadrato rotto e in Coppa Italia non so veramente più che fare ragazzi per favore donate tutti un supporto morale a me che ho pagato un rene Bernardeschi al fantacalcio oggi me ne fregava veramente poco ma non gioca mai, ma che problema ha? comunque io penso a Juventus nel primo tempo ragazzi mi poteva fare veramente 4-5 proprio testa base a attaccare, testa base a attaccare finalmente, finalmente si vede comunque una squadra molto propositiva io lo ribadisco, quest'anno per me al di là del fatto che adesso la Juventus è a seconda in classifica finalmente vediamo una buona Juventus perché ora non è che io posso sono nella posizione adatta per giudicare la Juventus che ha vinto 5-6 quanti cazzo non ha vinto un botto di scudetti di fila e due finali dei Champions League non sono nella posizione di giudicarla però c'è da dire che c'era sempre qualcosa che non andava lo dicevano anche i tifosi stessi ogni tanto l'attacco, ogni tanto la difesa quest'anno è riuscita perfettamente a equilibrare attacche e difesa e diventare secondo me una macchina quasi perfetta c'è solo da riprendere il Napoli ma comunque è lì quindi insomma la Juventus giocherà per tutto fino alla fine Juventus che secondo me è con un piede in mezzo in finale riesce anche a non prendere gol nonostante l'Atalanta gli ultimi minuti ha comunque attaccato a testa bassa per tutto il tempo quindi complimenti fatemi sapere con un commento qui sotto come sempre cosa ne pensate vi ringrazio per la visione se vi è piaciuto like altrimenti dislike che boccia la legge ci vediamo ad un prossimo